Benvenuti ragazzi e benvenuti tornati finalmente dal vostro massimo da 6.06 dopo tanto tempo e oggi siamo in un nuovissimo spacchettamento ma oggi non sarà calciatore di panini la nostra serie che continuava dopo 16 o 17 episodi ma oggi siamo nell'album dei mondiali speriamo che lo porterò avanti molto copertina dal video ok spero che mi faccia una copertina così oggi avremo solo 4 pacchetti ma l'ho già aperto l'album e ho aperto già 2 pacchetti e poi l'ho aperto uno ieri che mi ha regalato mio nono l'ho trovato non so se leggete Cristiano Ronaldo io sto qui comunque partiamo con il primo pacchetto peccato che l'Italia non ci sia il mondiale con la Svezia che non c'era manco Ibrahimovic ragazzi ho trovato ho già visto ho già visto anche brillare comunque la squadra dell'Iran lo stemma della Costa Rica uno dell'Iran che si chiama Alireza questo qua è della Costa Rica che si chiama Francisco Calvo e come ultima Ryan dell'Australia comunque secondo pacchetto oggi avremo solo 4 pacchetti siamo già al secondo e interessantissimo ragazzi Joao Mario partiamo giù dell'Australia Marocco Marocco Medi Benatia Benatia questo è da Juve perché Joao Mario l'ho messo di qua ok Medi Benatia questo è dell'Iran comunque Benatia via questo qua è dell'Iran Wahid Amiri e l'ultima è un Godoy del Panama ok ragazzi non so Benatia da questa parte non va bene l'unica carta forte che abbiamo trovato è lo scudetto della Costa Rica e Benatia per me perché io sono giuventino ma è comunque l'unica carta speciale la Costa Rica e mancano ancora due pacchetti quindi speriamo di sculare ok questo qua c'è il crestone questo qua è dell'Argentina spiuttate perché mi sembrava una capigliatura che sembrava Messi non è Messi mi sembrava troppo strano ma è comunque Marcos Acuna Acuna nooo ho scoperto le carte nooo questo qua la squadra della Ligeria mi sa che è meglio che facciamo così la squadra della Ligeria la squadra della Colombia dai Falcao perché c'è la mano che mi tremola non vedo Falcao ma vedo il grande James Rodriguez Wilfred Wilfred Ndidi della Ligeria e la squadra della Serbia dai ragazzi ultimo pacchetto per iniziare questa serie speriamo di trovare belle robe questo qua è mi sa che questo è della Corea del sud e infatti è così Kim Jinsu Alvaro González dell'Uruguay James Rodriguez dai Lodeiro dell'Uruguay ancora l'ultima è Ankersel della Danimarca della Danimarca James Rodriguez va benissimo ragazzi andremo ad attaccare quindi James Rodriguez e lo squadetto della Costa Rica di Benatia lo lasciamo lì va allora Costa Rica 392 comunque andiamo a attaccare il coso della Costa Rica e dai ok questo qua l'ho trovato anche in IS ragazzi che ha lasciato il Barcellona la Combo Fonda ha lasciato la Juventus ma comunque torniamo a noi 643 Colombia ragazzi non vi dirò perché tifo perché sicuramente mi darete nei commenti ma come fai a tifare questa squadra ve lo dico dai tifo per il Belgio perché è veramente forte comunque James Rodriguez James Rodriguez gets 643 andiamo ad attaccare Rodriguez speriamo di attaccarlo bene mi dispiace che l'Italia non sia il mondiale perché con la Svezia l'abbiamo perso e non c'era manco Ibra ragazzi capire e abbiamo attaccato pace tagli in mezzo cavolo si è piegato vabbè comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto spero che mi faccia commentare il video vabbè spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un commento un vi piace anche la pagina anche iscrivetevi al canale attivate la campagna noi ci vediamo al prossimo video qua da Ammas da Sidoros questo è tutto bello ragazzi ciao